Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, si fanno passi avanti per la costituzione della macro area del sud-est della Sicilia dopo una riunione a Catania, adesso per i sindaci di Catania, Siracusa e Ragusa appuntamento a Roma con il ministro Trigilia. Sarà il ministro della coesione territoriale Carlo Trigilia a coordinare una riunione con la delegazione dei sindaci dei comuni, dei presidenti delle camere di commercio e dei commissari delle province di Catania, Ragusa e Siracusa che costituiranno la macro area del sud-est. L'incontro con il ministro in programma per il prossimo 23 gennaio a Roma per affrontare il nodo del finanziamento di opere immediatamente candierabili attraverso i fondi 2007-2013 e la programmazione di nuovi interventi che riguardino l'area del sud-est da finanziare attraverso la programmazione 2014-2020. Un obiettivo che il ministro Trigilia aveva già indicato promuovendo un incontro di una delegazione del ministero con i sindaci delle tre province lo scorso mese di luglio. Non solo, proprio di recente lo stesso titolare del di Castero per la coesione territoriale aveva indicato la strada dello sviluppo economico della Sicilia proprio attraverso i progetti in cantiere da finanziare attraverso i fondi europei. E in cantiere l'elaborazione di piani strategici di area vasta volti a definire linee di sviluppo a medio periodo per territori capaci di aggregarsi a livello infrastrutturale. Ed è sotto questo aspetto che il sindaco di Catania Enzo Bianco ha incontrato martedì scorso il sindaco di Ragusa Federico Piccitto e quello di Siracusa Giancarlo Garozzo. Nel corso della riunione sono state definite le proposte di idee per lo sviluppo della macro area del sud-est che comprende Catania, Siracusa e Ragusa. Non sarà Augusta ad ospitare la nave siriana con il carico di armi chimiche dopo tante polemiche. Questa è la decisione del Governo nazionale. È arrivata ieri pomeriggio. Il Governo ha comunicato oggi che la nave con i prodotti chimici provenienti dalla Siria arriverà al porto di Gioia Tauro, scongiurato quindi il rischio che una simile operazione potesse essere fatta proprio nel porto di Augusta. Lo scalo calabrese ospiterà le operazioni di trasbordo da un cargo ad una nave americana. Poi in acque internazionali avverrà la distruzione degli agenti chimici nel rispetto delle procedure di sicurezza previste. Non comprendo il motivo per cui alcuni soggetti o personaggi politici debbano impostare la loro attività su allarmismo e demagogia, ha detto la parlamentare nazionale Presti Giacomo. Il caso degli agenti chimici provenienti dalla Siria è indicativo. Sono state spese parole al vento, creando panico tra i cittadini siracusani, con l'unico scopo di apparire sui giornali. Già venti giorni fa, dopo un'interlocuzione con il Ministero degli Esteri, avevo chiarito che il porto di Augusta non avrebbe ricevuto la nave contenente i prodotti chimici. Iniziato in tribunale il processo a carico del parlamentare sospeso Pippo Sorbello, accusato di voto di scambio prima udienza che è subito slittata. Iniziato ieri davanti al tribunale il processo a carico del parlamentare regionale sospeso Pippo Sorbello, l'ex sindaco di Medilli deve adesso rispondere insieme ad altre quattro persone del reato di voto di scambio che sarebbe maturato in occasione delle elezioni regionali del 2012. Prima udienza che è saltata senza fare alcuna attività a causa della diversa composizione del collegio e rinviata al 30 marzo prossimo. Il parlamentare melillese attende anche l'esito del processo di secondo grado relativo alla condanna riportata per la violazione della norma che regolamenta la pubblicità elettorale, condanna che gli è costata la sospensione per 18 mesi dall'ARS. Secondo Sorbello però all'origine della vicenda giudiziaria ci sarebbe una regia occulta. Leggero poco fa diceva che volevano farmela pagare e ci sono riusciti? No, me l'hanno promesso che me la facevano pagare, quando riguarda me l'hanno mandato a dire, me l'hanno detto pubblicamente con sottefugi, con messaggi ben precisi, cioè dire quello del legato di avere, io ho bloccato quella che era quell'iter che avrebbe vessato tutti i cittadini di questa provincia, cioè dire il contratto della privatizzazione dell'acqua. Sono dei primi a non consegnare gli impianti? No, sono stati i primi a fare il ricorso, oggi grazie a quel ricorso, perché il ricorso doveva essere fatto entro 60 giorni, il Comune di Melilla ha fatto il ricorso entro 60 giorni, abbiamo avuto sendenze a favore, sendenze contro, quella culminante è stato l'atto di ottemperanza che ha stravolto la parte CGA, che ha stravolto la sentenza data già dal CGA stesso e sostanzialmente tutta questa vicenda la dice lunga. Si svolge lunedì in Piazza Duomo la festa del corpo della Polizia Municipale di Siracusa, un evento che torna dopo tre anni in coincidenza con la festa di San Sebastiano, ne abbiamo parlato col comandante Miccoli. Lunedì c'è la festa del corpo della Polizia Municipale, questa è anche una novità, si torna all'antico, ovvero con lo schieramento dei reparti in Piazza Duomo, è così? Sì, è così, lunedì ritorniamo dopo tre anni in Piazza Duomo col presentare il corpo alla città, quindi a tutta la comunità cittadina, ed è una manifestazione che chiaramente ha un suo significato, come tutte le manifestazioni, ma la nostra ha il significato del ritorno a una tradizione che ci vede chiaramente partecipi di un ruolo che le forze di polizia devono avere nella città, che è un ruolo di intervento costante al servizio della comunità cittadina per tutte le esigenze e i bisogni della città stessa. Quindi nella manifestazione, ecco questo ruolo simbolico, saremo là a presentarci tutti, chiaramente dal vertice gerarchico, agli ufficiali, agli ispettori, agli assistenti e anche agli ultimi arrivati, che sono 11, che sono entrati negli ultimi giorni. Scriveremo chiaramente anche mezzi da un modo per presentarci alla città, chiaramente questa manifestazione che ha un carattere ciclico, coincide anche, guarda caso, intanto con la festa di San Sebastiano, patrono e protettore della Polizia Municipale e dei Vigili Urbani, coincide anche, guarda caso, anche con la chiusura dell'anno, per cui sarà il momento di fare una sorta di bilancio e di verifica dell'attività fatta e in ogni caso di rilancio per l'attività che faremo nel 2014. Intanto l'intervista completa, integrale, al comandato della Polizia Municipale la potrete seguire nell'edizione di Informare di oggi, subito dopo il telegiornale. I due amministratori della RIT Engineering, la società che gestiva il servizio di informatica del Comune di Siracusa, hanno deciso di patteggiare la condanna. Hanno deciso di ricorrere al rito del patteggiamento i due principali imputati nella vicenda della RIT e della RIT Engineering, la società siracusana di informatica, che aveva l'appalto con il Comune di Siracusa per la digitalizzazione dei documenti accusati dei reati di falso e altri in natura finanziaria. Il gruppo del Tribunale Michele Consiglio ha applicato la condanna a un anno e dieci mesi a carico di Pietro Durante, procuratore della RIT, mentre ha inflitto un anno e sette mesi alla padre Eugenio Durante, amministratore delle due società. Per entrambi gli imputati, che hanno fidato la difesa all'avvocato Ezechiel Reale, il giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La posizione dei due congiunti è stata stralciata rispetto a quella degli altri imputati coinvolti nell'inchiesta. Nel mirino della magistratura siracusana ci sono una serie di reati che vanno dalla truffa al falso, oltre che nella natura finanziaria. Secondo l'accusa, i due responsabili della RIT, della RIT Engineering Service, avrebbero messo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali dei dipendenti della società dall'aprile 2008 al giugno 2010 e avrebbero messo di versare IVA dal 2003 al 2008 per un ammontare di 697.330 euro fino al 30 settembre 2009. I due durante sono anche accusati di avere ceduto un ramo dell'azienda per sottrarsi al pagamento del IVA nel giugno 2009. Padre e figlio dovevano anche rispondere al reato di falso geologico perché avrebbero rilasciato dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostituitiva e con la tenuta irregolare delle scritture contabili della società sottraendo beni alla RIT, dissipando i beni con acquisti personali e distraendo 76.000 euro coltandoli dai proventi alla RIT alla quale il comune siracusa erogava 923.000 euro l'anno per l'erogazione del servizio. Ci lasciamo, c'è la pubblicità adesso ma vi aspettiamo tra poco qui per la seconda parte del TG. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre, abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar, prezzi e prodotti a portata di mano. Gemar si fa in sette. Nuovo punto vendita in via dei servi di Maria 98. Sconti del 40% sul reparto abbigliamento. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro. Ha stile e guarda che cromature. Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre. Trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Tarja, Siracusa. Scavolini Store Siracusa ha progettato per te un Evolution in una composizione lineare 4,20 metri. Finitura laccata opaca a soli 4.600 euro. Scavolini Store Siracusa ti aspetta in viale Scala Greca 381. La sensazione di volare per raggiungere la padronanza muscolare ed eliminare lo stress. A Siracusa nasce Studio 1. Nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity Yoga per il benessere della tua schiena. Fatti cullare dalla sensazione di leggerezza in assenza di gravità. Girotonic, un innovativo macchinario che allena il tuo corpo lavorando la muscolatura profonda con movimenti armoniosi e circolari. Pilates per raggiungere la massima forza addominale, respirazione e padronanza muscolare di tutto il corpo. Affidati a Studio 1. Specialisti, nuove attività mai viste a Siracusa per il benessere del tuo corpo. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1, provare per credere. Invia Lorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Bentrovati in seconda parte del nostro telegiornale. Due siracusani sono finiti in manette e in carcere perché accusati di aver messo dal segno una rapina in trasferta ai danni di una banca di Roma. È ritenuto l'autore di una rapina avvenuta nel maggio dello scorso anno in una banca di Roma. Raggiunto da un'ordinanza di custode cautelare in carcere, Marco Fazzino, siracusano, 35enne, è finito nella casa circondariale di Cavadonna e ieri mattina è stato sottoposto ad interrogatori di garanzia per rogatoria dinanzi alla GIP del Tribunale Siracusa, Patrizia Di Marco. Stesso provvedimento restrittivo è stato notificato nei confronti di un altro siracusano, Alessandro Schiavone, 35enne, che risiede nella capitale. Anche lui è stato accusato di essere coinvolto nella stessa rapina. L'episodio risale al 23 maggio dello scorso anno quando due individui hanno messo a segno un colpo ai danni dell'agenzia, 169 della banca di credito cooperativo di Via Montanelli a Roma. Secondo quanto ricostruito agli investigatori, ad entrare in azione per primo sarebbe stato lo Schiavone che fingendo di chiedere notizia sull'apertura di un conto corrente ha distratto l'attenzione del cassiere. Poco dopo si sarebbe avvicinato il Fazzino che con fare minaccioso ha esortato il malcapitato bancario a consegnare loro l'incasso della giornata. Egli stesso avrebbe aperto poi i cassetti impossessandosi di denaro in contante. Non soddisfatto, lo stesso Fazzino si sarebbe rivolto ad un'altra dipendente che stava a due passi al cassiere imponendoli di fare altrettanto. Al rifiuto della donna, il Fazzino avrebbe agito autonomamente. Raffato un bottino pari a 1900 euro, i due individui si sono allontanati. Da quel momento sono scattate le indagini sulla scorta della descrizione fatta dai testimoni e delle impronte digitali lasciate dai due presunti autori del colpo, gli investigatori hanno identificato i due siracusani. È stato il GIP del Tribunale di Roma ad emettere un'ordinanza di custode cautelare in carcere per entrambi. Fazzino si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per la cronaca, quello che potremmo definire è un ladro romantico, un'azione nella serata di ieri al cimitero di Siracusa. L'uomo è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri durante la perlustrazione nei pressi del cimitero comunale. Parliamo di Alessandro Chiari, 37 anni siracusano. I militari sono stati attirati da dei rumori sospetti provenienti da un chiosco per la vendita dei fiori proprio fuori dal cimitero. L'uomo aveva forzato la portata d'ingresso usando un chiodo, un lungo chiodo di 18 centimetri. Il bottino subito recuperato consisteva in alcune rose, un coltello seramanico, poi 10 barattoli con brillantina di vari colori e l'incasso della giornata, cioè circa 90 euro. Poi, grazie all'intervento dei carabinieri, è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Dovresti sarà in attesa di giudizio. A Francofonte la crisi agrumicola ma anche la paralisi nel settore edilizio stanno mettendo di fatto in ginocchio l'economia locale. Rosario Sidoti, oggi l'economia a Francofonte quale situazione vive? Vive un momento difficile come dappertutto, ma soprattutto qui in campo locale la crisi è sentita fortissima perché non c'è lavoro, l'edilizia è bloccata, l'agricoltura sappiamo la fine che ha fatto. Da 50 anni aspettiamo la zona artigianale e non decolla mai, quindi la gente è ormai rassegnata. Infatti, le nostre piccole attività, i piccoli negozi, le attività commerciali sono ormai portate uno dopo l'altro a chiudere perché la gente non compra niente. È una desolazione il nostro paese. L'agricoltura è il K.O.? L'agricoltura, l'abbiamo detto, è il K.O. completamente, quindi non sappiamo che cosa fare. Qui ci vuole il governo nazionale e il governo locale che si rimboccano le maniche e rilanciano l'economia dei vari territori. Stiamo perdendo tutti i nostri giovani e tutte le nostre maestranze di qualsiasi mestiere. Non esiste più un mestiere. I muratori se ne sono andati, i fabbri non esistono e tante altre attività. Noi siamo un popolo civile, un popolo che ha sempre lavorato e vogliamo continuare a lavorare e lavorando pagheremo le tasse. Non lavorando le tasse non le possiamo pagare più. Per la provincia di Siracusa è stato previsto per la postazione di Ortigia il cambio operativo da H12 ad H24. Significa che la postazione di Ortigia aprirà anche la notte e questa è la risposta dell'assessore regionale alla sanità per l'interrogazione del deputato regionale Vinciullo che ha denunciato che la postazione del 118 di Ortigia anziché rimanere aperta giorno e notte era aperta soltanto di giorno. Tutelare i lavoratori della SAI-8 una volta terminata la gestione commissariale questo è l'obiettivo del sindacato che ha sollevato la questione. I segretari generali di Filctem CGL, Femca Cisle e Wiltec Wil di Siracusa Rizzuti, Tripoli e Sorrentino nell'approssimarsi della data di scadenza della gestione commissariale della società SAI-8 intendono vederci chiaro rispetto alla risoluzione della problematica e l'affidamento ad un nuovo soggetto del servizio idrico. La situazione che si è determinata ha generato preoccupazioni tra i lavoratori che non riescono a guardare con certezza al proprio futuro. Non si può infierire sui lavoratori è scritto nel documento sindacale che sono gli unici a pagare i danni determinati da una gestione aziendale irresponsabile. Per queste ragioni le organizzazioni sindacali ritengono indispensabili un coinvolgimento delle stesse nella discussione che porterà l'affidamento del servizio. Occorre garantire e mantenere i livelli occupazionali per tutti i lavoratori di 6-8. È necessario garantire il regolare pagamento degli stipendi e soprattutto occorre garantire alla cittadinanza un servizio adeguato. Filctem, Femmica e Wiltec per garantire tutto ciò ritengono dannoso uno spezzatino nell'affidamento del servizio che potrebbe non garantire i livelli occupazionali nella speranza che si sia chiusa definitivamente una partita che verrà ricordata tra le più tristi del territorio. Verrà chiusa per qualche giorno la strada statale 124 nel tratto subito dopo lo svincolo autostradale noi abbiamo parlato con chi da tempo segue le vicende di questo tratto stradale l'avvocato Romano. Avvocato Lino Romano ci sono dei momentanei disagi per gli automobilisti per i cittadini perché è stata interrotta la strada statale 124 ma c'è una motivazione importante? Si sarà interrotta quanto prima perché sarà definito il percorso che va dall'entrata per l'autostrada dall'entrata e uscita per l'autostrada fino al boschetto i lavori sono continuamente in evoluzione stanno andando avanti con più celerità del previsto quindi dovranno necessariamente per completare questo tratto di circa 3 chilometri interrompere temporaneamente ci saranno dei lavori che si effettueranno anche i diurni e anche i notturni per evitare al massimo come è stato fatto anzi complimenti sia all'ANAS sia soprattutto alla ditta esecutrice dei lavori perché in effetti gli automobilisti hanno avuto ridotti al minimo effettivamente i problemi viari questo comunque significa che ormai siamo agli sgoccioli stiamo per terminare quest'opera importante si siamo agli sgoccioli è un record veramente complimenti ripeto soprattutto agli operai perché in un anno e mezzo si sta realizzando un'opera viaria importante è un record nel momento in cui la burocrazia blocca tutto nel momento in cui per un'opera qualsiasi ci vogliono anni anzi ci vogliono decenni qua veramente va il merito a tutti coloro che si sono adoperati affinché questa strada questa strada nuovissima questa strada che è veramente al passo con i tempi venga completata ripeto saranno dei giorni contati limitati nel tempo ineluttabilmente dovrà sospendersi in questo tratto viario l'accesso agli automobilisti però ripeto i tempi saranno limitati e quindi io chiedo agli automobilisti chiedo alle popolazioni di Florida e di Siracusa un po' di pazienza perché ne vale la pena come quei cartelli scusate stiamo lavorando per voi qua stanno lavorando veramente per noi bene è tutto il telegiornale qui si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programmi l'appuntamento tra poco però è per la puntata di oggi di informare condotta da Francesco Nania ci sarà l'intervista integrale ve l'abbiamo mostrato un pezzettino del Tg al comandante dei vigili urbani di Siracusa Miccoli ma parteciperà in studio anche la deputata Maria Barzana del Movimento 5 Stelle è tutto vi lascio al meglio a 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 Grazie a tutti.